Lo abbiamo detto ripetuto, chi si candida in questo territorio deve portare a Roma l'istanza del Tribunale della Pede Montana. Abbassando la ferita del Palazzo di Giustizia costruito e mai utilizzato, brucia ancora tanto. Oltre a essere uno spreco di denaro pubblico, è un grave danno per i professionisti della giustizia e per tutte le imprese e i cittadini del territorio. Le sicurezze garantite da un tribunale funzionante in città si sono sgretolate con il trasferimento a Vicenza. Sulla questione interviene l'avvocato Ghedini, candidato di Forza Italia, che, un po' sorpresa, ha una posizione diversa da quella espressa da molti professionisti del territorio. Io sono sempre stato favorevole all'accentramento dei tribunali perché viviamo in un mondo completamente mutato e anche l'idea di Orlando, che era quella di aprire uno sportello di prossimità, era un'idea abbastanza balzana perché oggi tutto si trasmetterà sostanzialmente per via telematica, quindi non è che aprire uno sportellino per andare a depositare un documento fosse un reale aiuto. I particolarismi locali ormai credo debbano essere superati perché è giusto che ci sia la giustizia vicina, ma deve essere una giustizia rapida e una giustizia efficiente e non è che aprendo 600 mila piccoli tribunali risolviamo i problemi della giustizia. Ghedini quindi propone come alternativa un tribunale per l'impresa e un giudice di prossimità, ma non è favorevole alla riapertura del tribunale Tucur. La replica arriva dal diretto sfidante, il democratico Giorgio Santini, che dice la battaglia per la riapertura continuerà. Una giustizia che funziona per tutti i cittadini è un obbligo morale verso questo territorio. In vari modi proseguirà nella legislatura che si aprirà dopo il 4 marzo, proseguirà questo impegno per dare una risposta a questo sistema, a questo territorio, a questo sistema di imprese, a queste attività economiche, ma anche alla giustizia civile ordinaria in modo tale che ci sia anche da questo punto di vista un passo in avanti. Questo territorio a tutti gli indici economici di popolazione, di attività, di incidenza anche delle cause, a tutti gli indici che giustificano ampiamente un tribunale che possa tagliare di molto i pesantissimi ritardi che abbiamo nella giustizia.